Io adesso vi voglio parlare di una storia che abbiamo seguito, studiato con Claudia Aldi ed è una storia importante per noi e sono sicura che sarà importante anche per voi. Adesso vi parla di Alessandra che è una bella ragazza, di quelle moderne, che non si spaventa a fare un mestiere da uomini. Le piace guidare ed è per questo che invece di starsene al centralino e smistare le richieste per un taxi, preferisce mettersi al volante. Lei di giorno e di notte. Il taxi in realtà è dello zio Onorio, è il taxi Siena 22. Alessandra però approfitta delle vacanze, dei giorni di riposo, quando lo zio è di riposo, lei prende il taxi che sarebbe rimasto fermo e va a lavorare. La storia infatti che vi stiamo per raccontare è una storia che si svolge in agosto, che è tempo di vacanze, di ferie, però per Alessandra è l'ultima estate. Claudia Aldi con Pino Rinaldi e Cesare Squitti. Alessandra si fidava un po' troppo di tutti. Io qualche volta le avevo detto stai attenta, le persone non sono tutte per bene come vogliono sembrare, quindi cerca di stare attenta. E lei no, ma sì, ma... Capito? Alessandra Vanni è nata e vive a Siena, dove lavora al centralino del consorzio Tassisti Senesi. Tra 13 giorni, il 22 agosto, compirà 30 anni. Ha una sorella più grande, Antonella. Alessandra è una giovane contradaiola. La sua è la contrada del nicchio. Ha iniziato a lavorare presto, finita la scuola dell'obbligo. Dopo la terza media è andata a lavorare in una fabbrica. Non è che aveva tanta voglia di studiare, è lei. Pretendeva dalla sua sorella che gli leggesse le cose e gliele spiegasse. Dopo sette anni la fabbrica ha chiuso, poi è andata al centralino e lì ha fatto... ha lavorato. Siena 27, confermato 12 minuti. È la sua voce che risponde alle chiamate dei clienti. Raccoglie le richieste, mette in attesa. Poi comunica il numero dell'auto bianca che effettuerà la corsa. Siena 22, Siena 22 da piazza Matteotti. Tra i tassisti c'è suo zio, Norio Vanni, proprietario di un taxi, che porta la sigla Siena 22. Quando lo zio è in vacanza o è fuori città, Alessandra ha il permesso di fare pratica col suo taxi. A lei piace guidare e sogna di diventare una tassista. Mi piaceva moltissimo guidare, forse più del centralino, anche perché poi i colleghi li volevano bene. Alessandra, da pochi mesi, ha un nuovo amore. Stefano, tassista anche lui. Lei ha alle spalle un matrimonio fallito. Non è stato facile riprendersi, ma con Stefano, Alessandra sembra avere ritrovato il sorriso. È venerdì 8 agosto. Verso le 9 di sera, dopo una giornata di lavoro al centralino, Alessandra finisce il suo turno, inserisce il risponditore automatico e torna a casa. Sono le 21, sono le 21. Inserisco il centralino automatico. Buonanotte a tutti. Il tempo di mangiare qualcosa ed esce di nuovo. Suo zio Onorio è in Ungheria per vedere il Gran Premio. E il taxi, Siena 22, è tutto per lei. Sono passato e ho detto, guarda Alessandra, la macchina è lì a casa mia, nel tal posto, queste sono le chiavi. Fai come credi. Di notte, se non ci vuoi andare a lavorare, non c'è andare, anche stasera. Tanto non ci sono problemi. E lei mi rispose queste testuali parole. Dice, guarda, stasera ci vado, perché tanto c'è anche Stefano a lavorare. Alle 22 in punto, Alessandra arriva al parcheggio di piazza Matteotti e si mette in attesa dei clienti. Tra le 22 e 30, le 23, accompagna alcuni militari, sino alla caserma. Poi fa salire a bordo del taxi una famiglia di turisti inglesi. Alle 23 e 07, preleva due studenti e li porta in piazza Gramsci. Alle 23 e 18, ritorna in piazza Matteotti, dove ci sono anche due colleghi, che però, poco dopo, vanno via. Sono le 23 e 23 in punto. Ora Alessandra è sola in quella piazza, seduta dentro al suo taxi. Per due minuti precisi rimane lì ferma. Poi, senza che arrivi un cliente e senza aver ricevuto alcuna chiamata, quella sera non ha con sé il cellulare perché è rotto, azzera il tassametro e predispone la tariffa 2, quella che viene inserita quando si va fuori città. Nel buio della notte, Alessandra infila nello stereo una cassetta di musica sudamericana e parte. È in questo preciso momento che comincia il mistero. La notte mi sveglio verso le 3 e mezzo, che non l'avevo sentita, tornare, mi sono subito alzata, sono andata in camera a vedere e lei non c'era. Mi sono affacciata per vedere se c'era il tassì. Ho detto tante volte fosse andata con questo fidanzato, diciamo così, non c'era nemmeno il tassì. La mattina del 9 agosto, a Castellina in Chianti, un paese ad una ventina di chilometri da Siena, un ferroviario in pensione è in macchina e sta raggiungendo la discarica comunale perché deve buttare un po' di cose che non servono più. Sono le 7 in punto, quando alla guida della sua auto arriva nello spiazzo sterrato della discarica, che si trova in località Colombaio, a due passi dal cimitero. Appena giunto, racconta, vedo un taxi parcheggiato. Avevo il sole in faccia e non facevo molto caso all'interno della vettura. Ma notavo comunque che al lato guida vi era una persona che apparentemente dormiva. Il ferroviario allora scende dalla macchina e si avvicina al taxi. E a quel punto si accorge che quella donna non dorme. Quella donna è morta. La mattina alle 7 e mezzo, magari alle 7 e mezzo ci hanno chiamato dalla vettura ad andare su. Io sono partita, siamo andati giù e lì non si sapevano nemmeno loro come dirci, insomma, no? Poi, insomma, si è scoperto che l'abbiamo vista lassù nel taxi che era deceduto, insomma. Io mi hanno riportato a casa il mio genero, marito di Antonella. Sono arrivata a casa, c'era il mio marito fuori. Dunque Alessandra Vanni è morta. È stata assassinata. Chi l'ha uccisa le ha stretto uno spago da pacchi intorno al collo fino a toglierle il respiro e la vita. Poi con quello stesso spago le ha legato le mani dietro il sedile. La mamma Mirella ci sta seguendo a casa con la sorella e il papà. Penso di sì. Lei è un po' in rappresentanza della famiglia. Sì, purtroppo. Lei è lo zio ed è lo zio che aveva questo taxi il Siena 22. Immagino quante volte si è detto se non le avessi dato quel taxi. Purtroppo. È andata così. Il destino è così. Se non avesse previsto una cosa così forse non andavo nemmeno in Ungheria. Senta, Onorio, sa Claudia Aldi che l'ha conosciuto bene che ha studiato questo caso mi ha detto viene lo zio però lo zio piange. Piange sempre perché dice quando parla di Alessandra è così. E l'ho vista piangere l'ho sentita insomma anche durante questo servizio. Io credo una cosa però noi dobbiamo farci aiutare anche da nostri tre spettatori se possono se hanno saputo qualche cosa visto qualche cosa e anche questo nodo io vorrei far vedere loro perché alcuni sono esperti di nodi i nostri tre spettatori questo nodo che è stato fatto perché è un nodo abbastanza particolare se la regia può mandare in onda la fotografia con il nodo qualcosa è un nodo particolare qualcuno di voi per caso esperto di nodi sa che tipo di nodo è chi può averlo fatto insomma dove si fa in quale regione si fa perché potrebbe essere davvero importante per noi. Allora che cosa è successo? Che le persone che hanno preso questo taxi il taxi guidato da Alessandra sono state in qualche modo rintracciate si è saputo chi erano però tranne due sono due sconosciuti e noi pensiamo che questi due uomini possono essere i responsabili ovviamente dell'omicidio di Alessandra o che comunque debbano sapere qualche cosa chi sono quegli sconosciuti ma prima di tutto cerchiamo di capire perché è stata uccisa Alessandra forse volevano rapinarla forse si tratta di un furto si pensa subito ad una rapina finita male l'incasso della serata a 150.000 lire è infatti sparito qualcosa però non torna e nel giro di poche ore questa pista viene abbandonata sotto la lente degli inquirenti finiscono la vita di Alessandra e quella dei suoi cari l'ex marito l'attuale fidanzato non salta fuori nulla allora torniamo a quella notte a quando Alessandra Vanni lascia piazza Matteotti e da sola si dirige fuori Siena non ha nessun cliente a bordo e non ha ricevuto nessuna telefonata anche perché quella sera il suo cellulare è guasto ma dove sta andando e perché addirittura fuori città intorno alle 11 e mezzo di sera il taxi Siena 22 imbucca la strada Chiantigiana e dopo pochi chilometri arriva a Quercegrossa un piccolo paese alle porte di Siena qui secondo il racconto di alcuni testimoni il taxi viene visto effettuare strane e ripetute manovre prima passa davanti ad un bar poi entra ed esce da via di Vittorio poi ripassa davanti al bar quindi gira di nuovo siamo a Quercegrossa questa piccola piazza che vedete alle mie spalle è piazza Jacopo della Quercia è qua che l'8 agosto 1997 Alessandra Vanni alla guida del suo taxi ha eseguito numerose manovre probabilmente stava cercando un indirizzo che si trovava qua nei paraggi ma che non riusciva a trovare poi poco prima della mezzanotte la giovane tastista è stata vista nuovamente passare ma questa volta a bordo del taxi con lei c'erano due persone ed Alessandra ha proseguito verso Castellina in Chianti in questa direzione sono saliti due uomini alcuni testimoni seduti fuori del bar li descriveranno così capelli corti scuri uno dei due non più alto del poggiatesta del sedile anteriore chi sono quei due e dove li sta portando Alessandra li conosce sa chi sono era la prima volta che viaggiava di notte in extraurbana sì secondo me sì no secondo me la notte non sono sicuro perché il tassino non gliel'avevo mai dato di notte quindi è abbastanza impensabile che per la prima volta che viaggia di notte si avventura per le strade del Chianti con una persona che non conosce sì sì esatto esatto io so di questa opinione lei ha portato una persona che conosceva oppure è andata lì perché una persona che conosceva le ha chiesto di andare lì sì esatto esatto ma ecco spuntare una nuova pista da un dettaglio apparentemente insignificante lo spago da pacchi con cui Alessandra è stata prima strangolata e poi legata grazie ad una perizia merceologica disposta dalla procura si scopre che quello spago appartiene alla vittima Alessandra l'ha usato per legare una scatola di cartone che di solito tiene nel cortile del posto dove lavora ma che quella notte ha portato con sé lo prova un'impronta rilevata dalla polizia scientifica sul sedile posteriore del taxi cosa ci ha messo in quella scatola? probabilmente dei gattini che ha trovato proprio nelle vicinanze della sede della cooperativa di Radiotaxi Alessandra quella notte stava dunque portando i gattini a qualcuno viene fuori che tra i clienti abituali della cooperativa ce n'è uno che ogni giorno utilizza il taxi per recarsi al lavoro in un ristorante di piazza del campo è un somalo che tutti chiamano Nicolino Alessandra lo conosce bene perché ogni giorno risponde alle sue chiamate al centralino Nicolino abita in periferia nella zona di Ponte a Bozzone e da pochi giorni si è trasferito proprio a Quercegrossa in via di Vittorio la via dove l'8 agosto poco prima di mezzanotte Siena 22 passa più volte facendo strane manovre Alessandra Lanni stava forse cercando il nuovo indirizzo di questo cliente è con lui che aveva un appuntamento ed è a lui che stava portando i gattini e una delle persone che risultò che anche nei giorni immediatamente precedenti il delitto aveva più frequentemente chiamato era proprio questo ragazzo Somalo proprio o il giorno primo o il giorno stesso del delitto c'era stata una lunga telefonata con l'Alessandra lui usava spessissimo il taxi per lavoro e fu sentito questo signore guarda caso era tre giorni che si era trasferito proprio in via di Vittorio dove Alessandra quella sera girava e rigirava e poi fu lui che vi disse una cosa vi disse che stava parlando sempre con Alessandra per quale motivo? mi sembra che gli doveva portare un regalo qualche cosa degli animali forse dei gattini mi sembra di ricordare che lui così almeno spiegò la telefonata che doveva portargli in regalo perché si erano appunto non dico erano amici ma insomma c'era una conoscenza per via di questi viaggi in taxi e aveva deciso di regalargli dei piccoli animali la polizia sentirà l'uomo più volte ma lui non dirà mai nulla di utile e nel 2007 muore se fosse stato a conoscenza gli elementi preziosi Nicolino li avrebbe portati con sé nella tomba quel che è certo è che in quella drammatica notte Alessandra Manni fa salire a bordo del suo taxi due persone nei pressi